Anche l'Università d'Annunzio di Chieti è presente all'Expo di Dubai 2020, grazie ad uno studio innovativo e all'avanguardia che ha consentito alla d'Annunzio di essere scelta. Il progetto è un esempio dell'emergente medicina personalizzata, che unisce tecnologie avanzate alla medicina rigenerativa. Reduce dall'Expo di Dubai 2022, che esperienza porta a casa oggi? Beh, è un'esperienza straordinaria. Diciamo che l'Expo Dubai 2020 è un'esperienza sballorditiva che consiglierei a tutti. Diciamo che è come se avesse la possibilità di girare il mondo in 4 chilometri quadrati. Il progetto, ideato e firmato dalla mia professoressa Oriana Trubiani, riguarda una nuova frontiera nella medicina personalizzata, grazie all'utilizzo di cellule staminali autologhe di pazienti attraverso biopsie ottenute dalla cavita orale, che permettono quindi poi di ottenere per isolamento queste cellule, e andare a differenziarle all'interno di un sistema innovativo dal nome OrganonCip, specificamente il BononCip, in cellule dell'osso. Questo permetterebbe, diciamo, nuove terapie personalizzate, quindi ad personam per il paziente, aiutando la ricerca in ogni campo, sia nella rigenerazione ossea, ma anche soprattutto oncologica per le metastasi ossee. La sua esperienza all'Expo di Dubai? Beh, diciamo, a livello personale, ovviamente posso parlare, sono stato onorato di essere scelto dall'Università di Chieti, dal nostro lettore, dal nostro dipartimento, per presentare questo progetto in un evento estremamente importante, quale l'Expo, ma diciamo che l'importanza fondamentale del presentare il progetto in una platea così importante, quale possa essere quella dell'Expo, e soprattutto in una città estremamente simbolo di incontri di diverse culture e di fusione tra il moderno e l'antico, quale possa essere Dubai, sintetizza in maniera ottimale quella che è anche la caratteristica principale dell'Expo, dell'esposizione universale, ossia l'incontro di menti per lo sviluppo per andare verso il futuro.